8 ore di musica ininterrotta con 18 artisti e gruppi italiani che si alterano sul palco insieme agli studenti piemontesi per 20 letture sul tema della resistenza. Torna così per il quinto anno consecutivo il grande concerto del 25 aprile in occasione della festa nazionale della liberazione. A ingresso gratuito il concerto prende il via alle ore 16 in piazza Castello a Torino per una giornata di musica e letture fino a mezzanotte. Tra gli altri saranno protagonisti la canzone d'autore di Gian Maria Testa e Giorgio Conte, il rock dei Kobe, il talento di Roberta Di Lorenzo e le criticità di Peppe Voltarelli. La fanfara della brigata opina taurinense, formatasi nel 1965 dalla fusione dei preesistenti complessi bandistici del IV Regimento Alpini e del I Regimento Artiglieria da Montagna, alzerà invece il sipario sulla manifestazione che sarà condotta da Mixo e Marina Paganotto. A chiudere il concerto del 25 aprile saranno poi Paola Turci, Angelo Branduardi e Teresa De Sio. Il 25 aprile è un grande concerto, il più grande a livello nazionale, a ricordare la resistenza, non è solo un concerto perché ci sono anche le letture di quelli che la resistenza e la storia di questo paese e della nostra regione l'ha fatta veramente, quindi non è solo un concerto ma è un momento per ricordare. Questo concerto ovviamente è una manifestazione di popolo, vuole attrare tanti piemontesi, tanti torinesi, Torino, città medaglia d'oro per la resistenza in piazza per poter anche riflettere ascoltando queste importanti letture sui valori della resistenza, sul ruolo che la resistenza ha avuto in modo non discutibile sul mantenimento della democrazia, il ripristino della democrazia e la nascita della Repubblica. Uno dei momenti più importanti nei festeggiamenti che hanno avuto Torino e anche la provincia è stato il 25 aprile perché questa storia del paese parte anche dal ricordo ma non solo ricordo, dalle fondamenti che sono delle lotte di liberazione. Qui la resistenza non solo si celebra ma si è fatta e il 25 aprile rappresenta per una città medaglia d'oro alla resistenza un momento importante, un momento importante per riflettere, per continuare anche con le giovani e le generazioni a riflettere sul significato profondo di questa festa, di questa celebrazione, ma soprattutto di questo ricordo che non è soltanto un ricordo diciamo ormai diventato una festa per la quale non si va a lavoro, ma un ricordo che ancora oggi, vista la situazione dell'Italia e del mondo, è un ricordo importante. Grazie a tutti.